salve a tutti amici amanti dei bei libri e delle letture ad alta voce domani sera martedì 29 giugno alle 21 e 30 sarò ospite di leonardo paolo lovaria del suo bellissimo canale anubi tv per il terzo episodio del viaggio di armachis in cui leggeremo e commenteremo insieme iside osiride di plutarco pubblicato da armachis edizioni vi andrebbe di scoprire insieme qualche anticipazione su quello che andremo a leggere domani sera il lavoro è dedicato a clea una donna colta e intelligente sacerdotessa di delfi alla quale plutarco aveva dedicato anche il suo demolierum virtutibus si tratta senza dubbio di un'opera nata dalle discussioni con clea in materia di religione e sull'atteggiamento giusto con cui avvicinarvi sì partendo dall'atteggiamento con cui accostarsi al dio da uomini saggi plutarco passa a trattare di iside che secondo lui è dea eletta per sapienza e amante di sapienza cui è avverso tifone mostro e simbolo di malvagità su questo sfondo plutarco racconta a lungo i costumi del sacerdozio egizio del quale descrive abiti usi riti regole di vita collocandolo sempre alla maniera greca in una luce di razionalità i capitoli 12 76 invece sono dedicati all'esposizione allegorica del mito di amore e rinascita rappresentato appunto da iside e suo marito osiride il mito di osiride e iside lo si può definire il mito nazionale dell'egitto che venne poi esteso nell'area mediterranea con l'avvento dell'ellenismo è importante vederne l'originale entità prima che prendesse i rivestimenti dell'ellenismo nei misteri osiridici e isidici perché le fonti ci informano che in essi si conserva la lingua egizia e quindi intendevano riferirsi alle origini del mito considerando i testi delle piramidi cioè i testi scritti nelle pareti delle celle funerarie osiride ed iside sono due divinità generate da nut dea del cielo e jeb dio della terra osiride è la prima figura maschile e iside è la prima figura femminile sono i primogeniti dei due sessi diventano sposi in tal modo la primogenitura della potenza di nut e jeb viene preservata da ogni dissipazione osiride è un dio sovrano in terra che introduce la civiltà tra gli uomini primitivi e la espande oltre i confini dell'egitto set suo fratello è pieno di invidia e concepisce il pensiero di ucciderlo ma iside la moglie e sorella vigila su osiride set secondo figlio maschio di nut e jeb avvalendosi del consiglio del dio tot altro fratello di osiride tende un tranello a osiride lo colpisce lo lega e lo uccide facendo infine a pezzi il cadavere disperdendolo nelle acque del nilo l'intento di set è quello che ad osiride non si possa compiere il rituale di mummificazione e quindi che lo spirito di osiride possa venire in possesso del suo corpo mummificato iside cerca lo sposo ma non lo trova e con nefti neftis sua sorella si mette a gridare nel pianto e gli dèi vedendo quel dolore si lacerano le carni ma set e tot non partecipano a quel dolore nut recupera nell'acqua le membra del cadavere di colore verde e nero la vegetazione ed il limo e le ricompone lasciando il corpo sulle acque dove iside lo raccoglie gli dèi si prendono cura del cadavere il dio ra il sole gli sostiene la testa e gli dice in uno speciale rituale di imbalsamazione non imputridire non marcire non sia cattivo il tuo odore iside si trasforma in falco e si pone sul marito ventilandolo con le ali la mummia ha un segno di vita nei genitali come si ritrova nei testi delle piramidi e così la dea rimane incinta del dio orus che nascerà con corpo umano e testa di falco iside partorisce orus e quando questi adulto affronta set il nemico del padre nella lotta set strappa ad orus il suo occhio divino e set assume per questo l'aspetto di un porco orus a sua volta strappa i testicoli a set e recupera il suo occhio quindi orus dona al padre osiride il suo occhio osiride si rianima e diventa potente i nemici di osiride vedendolo di nuovo potente sono atterriti per ordine di jeb gli dèi si riuniscono ad eliopoli per il processo contro set che cerca di sottrarsi ma due idee della verità lo costringono a confessare orus piega sotto i piedi di osiride set e lo condanna a trasportare osiride ovunque voglia andare poi jeb pone su un trono osiride plutarco di cheronea fornisce la versione greca del mito il dio sole atum ra o re pronuncia alcune imprecazioni contro nut impedendole di partorire ma il dio tot identificato con ermete crea i cinque giorni epagomeni sono i cinque giorni che venivano aggiunti al calendario reale per farlo collimare con quello civile in questi giorni nut dà alla luce i suoi cinque figli osiride arueris il grande orus distinto dal figlio di iside set identificato con tifone iside e neftis osiride adulto è il re degli uomini e li porta dalla barbaria e alla civiltà set invidioso con l'aiuto di dodici compagni prepara una cassa ricchissima e la propone come dono a colui al quale si sarebbe adattata perfettamente osiride che vi entra vi viene rinchiuso e la cassa viene buttata nel nilo giungendo fino al mare iside lo cerca e viene a sapere dell'azione di set di come la cassa sia giunta nella fenicia a biblos la cassa era finita dentro un grande arbusto cresciuto smisuratamente tanto che il re di biblos ne fece una colonna per la sua casa iside va a biblos e ottiene di essere introdotta nella reggia e viene assunta quale nutrice del neonato della regina iside nutre il bambino unicamente con il suo dito mentre nel corso della notte lo espone al fuoco per purificarlo e renderlo così immortale iside successivamente si trasforma in rondine e vola attorno alla colonna di legno dove si trova il cadavere di osiride la regina vede nottetempo iside porre nel fuoco suo figlio e grida rompendo così l'incantesimo il figlio della regina non accederà più all'immortalità iside allora si rivela come dea e toglie la cassa che sta dentro la colonna e comincia un lamento estenuante su osiride poi torna in egitto abuto importante centro religioso nel delta del nilo oggi tele il farain presso il figlio oros già concepito con osiride mummificato e si distende sul cadavere impianto set tifone scopre il cadavere di osiride lo smembra in quattordici parti che disperde nelle paludi del nilo iside con una barca di papiri va alla ricerca delle membra del marito fratello e le ritrova tutte tranne il sesso divorato da un pesce lo sirico che viene ad essere in abominio agli egiziani iside fa fare un grande fallo di legno e procede alla ricomposizione delle membra di osiride nei luoghi dove iside ritrovò le membra di osiride vennero costruite delle cellette chiamate del ritrovamento che la dea seppellisse le varie membra nei luoghi dove le ritrovò va contro l'indole del mito ed è idea da rifiutare ra mandò anubis e tot a imbalsamare osiride in tal modo ad osiride viene garantita la possibilità di ritornare nel proprio corpo osiride divenne il re degli inferi dove giudicava le anime e così venne chiamato neber cher il signore del limite estremo non era pensabile per un egizio la sopravvivenza nell'aldilà senza la mummificazione del corpo l'anima manteneva sempre una relazione con il corpo anche se ne era separata il tempio di osiride era ad abido oggi è il madfuna il corpo mummificato di osiride lo si considerava depositato lì anche voi vi siete chiesti chi era plutarco di cheronea e se lo scoprissimo insieme quasi tutto ciò che sappiamo circa la vita di plutarco si ricava da riferimenti interni alle sue stesse opere in esse egli ricorda di essere stato discepolo del platonico ammonio nell'età in cui nerone soggiornò in grecia 66 67 dopo cristo da questo riferimento è possibile collocare la nascita di plutarco poco prima del 50 dopo cristo sempre nei suoi scritti e gli narra che la sua famiglia fu funestata dalla scomparsa prematura dei cinque figli che plutarco ebbe dalla moglie timossena plutarco trascorse la maggior parte della propria esistenza nella nativa cherona in beozia ma ciò non gli impedì di fare importanti viaggi sia in grecia sia in altre zone dell'impero e così si recò ad atene dove venne insignito della cittadinanza onoraria a sparta ad alessandria e forse anche in asia ebbe modo di visitare l'italia e di soggiornare a roma senza però riuscire ad impadronirsi alla perfezione della lingua latina per via dei molteplici impegni politici e culturali che lo impegnarono plutarco divenne cittadino romano con il nome di maestrio tratto dall'amico maestrio floro e gli fu conferita da traiano la dignità consolare da adriano quella di suo ambasciatore in grecia è curioso che di queste cariche prestigiose di cui ci dicono eusebio il lessico suda plutarco non faccia mai menzione nei suoi scritti questa apparente stranezza è probabilmente dovuta alla fierezza greca di plutarco che per tutta la vita non volle vantarsi di cariche esercitate in favore del potere romano quest'ipotesi trova una potente conferma nel fatto che gli elenchi nei suoi scritti una dopo l'altra tutte le cariche da lui rivestite in beozia al conte eponimo sovrintendente all'edilizia pubblica telearco l'incarico che però più ebbe a cuore fu quello di sacerdote ed elfico che detenne per circa un ventennio e che molta influenza ebbe sulla sua spiritualità molte incertezze permangono sulla data della morte di plutarco che dovette in ogni caso coglierlo in età piuttosto avanzata se prestiamo fede ad eusebio plutarco non sarebbe morto dopo il 119 d.c anche se c'è chi sposta la data fino al 125 bene vi ringrazio per avermi ascoltata fino alla fine spero di essere riuscita a incuriosirvi con la lettura di alcune pagine tratte da quest'opera se vi farà piacere vi aspetto domani sera alle 21 e 30 su anubi tv intanto vi lascio un grandissimo abbraccio a presto dalla vostra rosanna lia ciao